Bentornati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 1.776 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 13.165 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 13,5% con la Sicilia al quinto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 170.470, i guariti invece 1.619. Stavolta non si registrano vittime, pertanto il totale dei decessi resta di 11.548. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.024, 21 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva invece sono 51, 4 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i dati a livello provinciale, stavolta è Palermo, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 547, subito dietro Catania con 520, poi Messina con 359 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Ed ora invece parliamo del caro carburanti perché potrebbero esserci delle novità importanti. Nel nuovo decreto aiuti infatti si valuta di inserire anche una nuova proroga del taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti, lo si apprende da fonti qualificate. Lo sconto è stato recentemente prorogato fino al 21 agosto e potrebbe ora essere esteso di una quarantina di giorni fino a fine settembre. In un primo tempo sembrava che la proroga non sarebbe stata inserita in questo provvedimento dal momento che può comunque essere fatta con un decreto interministeriale a ridosso della scadezza. Quindi occhio a questa notizia, lo sconto come detto il taglio o meglio sulle accise potrebbe dunque essere prorogato. Ed ora invece parliamo di un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate, un attacco che sarebbe stato condotto violando il profilo di un utente. E' quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dagli esperti informatici e dai tecnici della polizia postale, anche se le verifiche sono ancora in corso. L'attacco sarebbe opera di Lockbeat. Gli hacker hanno pubblicato una serie di screenshot relativi all'attacco ed è proprio analizzando questi screenshot e la tipologia di materiale sottratto che gli investigatori e gli esperti ipotizzano che sia stato bucato il profilo di un utente e non l'Agenzia delle Entrate. Comunque, come detto, le indagini sono ancora in corso. Parliamo adesso di calcio con una simpatica e bella iniziativa del nuovo Catania. Saranno i tifosi infatti a scegliere il nuovo logo del club. Il Catania è della sua gente, si legge sulla pagina Facebook della nuova società rossazzurra. Lo abbiamo dichiarato più volte e oggi vogliamo rendere concreto questo concetto, perciò vi chiediamo di esprimere una preferenza e di partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita. Intanto le procedure di registrazione del marchio sono già state avviate, ma la società non ha ancora selezionato la versione grafica definitiva. Come detto, saranno i tifosi a farlo indicando una delle due soluzioni proposte e che vi stiamo mostrando. Il club terrà in considerazione i commenti pubblicati sotto al post Facebook entro le ore 20 di oggi. Dunque, entro le ore 20, i tifosi rossazzurri potranno esprimere uno o l'altro logo, ovviamente il gradimento per l'uno o l'altro logo, e alla fine il logo che prenderà più like, più maggiori gradimenti, diventerà ufficialmente lo stemma del nuovo Catania. Ed ora la politica verso le elezioni regionali. Sto incontrando i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra sul tema dell'accorpamento della data delle elezioni nazionali e regionali. Ancora qualche giorno di riflessione e poi prenderò la mia decisione, lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, parlando all'Ansa alla conclusione della sua giunta riunita a Catania sull'ipotesi di un election day il prossimo 25 settembre. Il voto in Sicilia per le regionali è previsto a novembre, per una data unica quindi la governatore dovrebbe dimettersi entro i primi giorni di agosto. Vedremo se alla fine la scelta sarà questa, ma vedremo soprattutto se il candidato di centrodestra sarà ancora Nello Musumeci, perché al momento insomma le indicazioni sembrano dire tutt'altro e quindi potrebbe non essere Musumeci l'esponente del centrodestra che parteciperà unito, se parteciperà unito, alle prossime elezioni regionali. Chi invece è certo di essere candidato è Cateno De Luca che prosegue nel suo cammino verso Palermo, nel suo cammino in bici, come lo vedete dalle immagini, ma anche a piedi. Stamani ad esempio ha fatto tappa a Caronia percorrendo oltre 22 chilometri. Ad attenderlo c'era il sindaco e anche alcuni componenti della giunta. Giunto a Caronia, come di consueto ormai dall'inizio del suo cammino partito dal fiume di Nisi, Musumeci, Cateno De Luca, scusate, ha illustrato uno dei suoi comandamenti programmatici, li ha chiamati così. In questo caso si tratta del sesto comandamento. Sicilia, isola della prevenzione e della normalità senza gli affaristi nei servizi di pubblica utilità. Nel dettaglio, riorganizzazione dei servizi di pubblica utilità, quindi rifiuti, acqua, trasporto pubblico, eccetera, utilizzando tutte le risorse pubbliche per realizzare e riqualificare l'impiantistica infrastrutturale con una gestione pubblico privata finalizzata ad abolire la socializzazione dei costi e la privatizzazione dei ricavi. Questa dunque la spiegazione di questo sesto comandamento programmatico che stamane ha illustrato Cateno De Luca a Caronia. Cateno De Luca che prosegue nel suo percorso e che si concluderà il 29 luglio a Palermo. Ed ora parliamo dell'emergenza migranti soffermandoci ovviamente su Lampedusa. 150 migranti hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa dove stamane il numero di ospiti pensate era di 1871. I migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea che li porterà a Porto Impedocle. Altri 50 sono in partenza invece con una motovedetta della Guardia Costiera. All'hotspot di Contrada Embriacola restano al momento dunque poco più di 1600 persone in una struttura che può contenerne al massimo 150. Quindi capirete che nonostante questi primi trasferimenti comunque l'emergenza resta ed è un'emergenza totale perché parliamo di 1600 persone contenute in una struttura che può invece contenerne davvero poche. 350 ecco quindi la situazione resta critica. Tra oggi e domani comunque dovrebbe arrivare la nave 18 e 18 che imbarcherà altri migranti ma dopo come dire la calma dei giorni scorsi in cui l'hotspot era stato ripulito, era stato svuotato purtroppo con gli arrivi di ieri e di oggi l'hotspot è tornato a riempirsi in modo esagerato con oltre 1600-1700 addirittura questa mattina migranti. E a proposito di migranti e di emergenza Lampedusa ha intervenuto Matteo Salvini, lo ha fatto con un post su Facebook in cui ha scritto, ho sentito il vice sindaco di Lampedusa, la situazione è allarmante con arrivi ormai fuori controllo e hotspot pieno oltre i limiti dell'umanità. Arriverò sull'isola, ha annunciato Salvini il 4 e 5 agosto per portare idee e soluzioni che già avevamo messo in pratica con successo. Amici Lampedusani, scrive ancora il leader della Lega, dopo il fallimento del lavoro della Lamorgese il prossimo ministro bloccherà questi arrivi ormai ingestibili proprio come aveva fatto la Lega quando era al Viminale. Cambiamo argomento, adesso parliamo della morte di Brigantoni, questi sono i giorni del lutto. La salma di Brigantoni è stata trasferita presso la Camera Ardente allestita alla Galleria d'Arte Moderna di via Castello Ursino. I fans potranno quindi recarsi fino alle 19 di questa sera e poi domani dalle 8 del mattino sempre fino alle 19. Mercoledì la Camera Ardente sarà aperta dalle 8 del mattino mentre poi alle 16.30 si celebreranno i funerali presso la Cattedrale di Sant'Agata. Restiamo a Catania ma cambiamo decisamente argomento perché parliamo di incivili, incivili che sporcano, che abbandonano i rifiuti per strada ma incivili che sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune. Vediamo il servizio. L'eccezionale lavoro della Polizia Locale sia nei controlli con appostamenti e tramite telecamere ci ha consentito di spiccare quasi 7.000 multe in meno di 7 mesi. Un migliaio di questi incivili sono stati beccati con le telecamere, riprese video talvolta raccapriccianti per la vergognosa condotta di alcuni. Lo ha detto l'assessore all'ecologia del Comune di Catania Andrea Barresi sulle sanzioni combinate a chi gette rifiuti per strada alimentando delle microdiscariche in varie strade della città. Sappiano queste persone, ammonisce l'assessore, che i controlli video e quelli del personale della Polizia Municipale sono sempre in aumento e che la barbarie di gettare i propri rifiuti senza alcuna regola di rispetto del vivere civile verrà sanzionato con ogni strumento che la legge consente poiché è finito il tempo di considerare Catania una discarica. Intanto in fase di completamento l'installazione di 13 telecamere di ultima generazione che si vanno ad aggiungere alle altrettante già attive per identificare e sanzionare anche con la videosorveglianza chi lascia rifiuti per strada. Nei prossimi mesi è infatti prevista l'installazione di 150 strumenti di controllo. Le telecamere di nuova installazione saranno visionate in collegamento con il reparto di tutela ambientale della Polizia Municipale. Sono state acquistate coi fondi della democrazia partecipata come scelta dei cittadini per impiegare le risorse previste dalla legge regionale per aumentare il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte decisionali. Ci spostiamo adesso a Marsala, continuiamo a parlare di cronaca. Due persone sono state denunciate per furto aggravato. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala hanno denunciato due marsalesi di 49 e 47 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso. Nell'ambito di specifici servizi volti alla prevenzione e repressione di reati contro la persona e il patrimonio, i carabinieri di Marsala hanno notato nei pressi del monumento ai 1000 i due uomini, a loro ben noti, che con fare sospetto guardavano all'interno delle auto parcheggiate. Dopo poco tempo i militari dell'arma hanno acquisito la notizia della denuncia presentata da una donna, la quale dichiarava di aver subito il furto di un pc portatile e di una borsa contenente documenti di riconoscimento e affetti personali dall'interno della propria autovettura parcheggiata proprio in quella zona. Analizzate alcune immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, gli operanti hanno individuato i due soggetti quali presunti responsabili del furto, decidendo così di eseguire una perquisizione domiciliare. All'esito della stessa è stata rinvenuta la refurtiva, prontamente restituita alla denunciante, mentre i due malviventi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Due invece le persone arrestate a Catania dalla polizia. Nella notte tra domenica e lunedì, personale delle volanti ha tratto in arresto un pregiudicato responsabile del reato di furto aggravato. Nello specifico, una società di gestione di allarmi satellitari aveva segnalato alla locale sala operativa di localizzare in una zona di campagna, nei pressi dello stradale Gelso Bianco, un'auto asportata poco prima da Via Grande. Giunto sul luogo segnalato, il personale operante ha notato due individui intenti ad armeggiare all'interno dell'abitacolo di due autovetture stessa marca e modello. Si trattava del mezzo oggetto di segnalazione e di un'altra macchina rubata poco prima da tre castagni. Gli agenti sono riusciti a bloccare soltanto uno dei due malviventi poiché l'altro è riuscito a dileguarsi per le campagne limitrofe approfittando del buio fitto. L'uomo è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari. Sempre a Catania, in piazza Borsellino, è stato tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, il quale, svolgendo l'attività abusiva di posteggiatore, aveva minacciato e chiesto del denaro a un ragazzo per poter parcheggiare la propria auto. L'uomo è stato arrestato per tentata estorsione e minaccia, nonché denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Su disposizione del PM di turno è stato successivamente tradotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida innanzi al GIP. Restiamo a Catania per parlare dell'arresto di un 27enne spacciatore. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto per pregresse vicende giudiziarie e sospettato di perseverare nell'attività di spaccio, da tempo era finito nuovamente sotto la lente di ingrandimento dei militari che lo avevano notato passeggiare su uno scooter per le strade del quartiere Picanello, probabilmente impegnato a fare consegne a domicilio. Lo scorso pomeriggio i carabinieri lo hanno intercettato mentre a bordo del suo scooter si metteva sul viale Ulisse e hanno deciso di sottoporlo a un controllo intimandogli l'alt. Il giovane ha inizialmente arrestato la marcia accostandosi al margine della carreggiata, salvo poi ripartire repentinamente iniziando a serpeggiare fra le auto e gli scooter che transitavano in quel momento, approfittando del traffico intenso e percorrendo anche il marciapiedi per diversi metri a fortissima velocità incurante della presenza di pedoni per cercare di far perdere le proprie tracce. L'inseguimento, proseguito fino a Via De Amicis, si è concluso poco dopo quando i militari sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccare il ventisettenne, il quale a causa della forte velocità si è scontrato contro l'auto dei carabinieri rovinando a terra. Il giovane nella circostanza ha anche tentato di disfarsi di due involucri prelevati dalla tasca dei Bermuda facendoli scivolare all'interno di un tombino in strada. I carabinieri hanno recuperato i due involucri contenenti diverse dosi di hashish e marijuana già pronte per essere vendute, rinvenendo altresì all'interno del vano portacasco dello scooter la somma di denaro contante di 210 euro ritenuta provento dello spaccio. Il ventisettenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ci fermiamo qui, a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.